Fai le ginocchiate anche tu saltate, come quello che hai fatto a polpa tagliata, veloce. è più veloce quei ginocchio no, non progiarglielo è più secco, dai vabbè ok, ma poco poco più veloce spingilo, spingilo spingilo strattona con la testa e liberati dalla sua mano prendilo il corpo e spingilo prova a bloccargli le sue ginocchiate con il tuo ginocchio non fate acchiappare spingilo 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 Grazie. Grazie.